Grazie a tutti. Non solo per quanto riguarda il Novecento italiano, ma permettetemi di dire per quanto riguarda la storia dell'arte mondiale e la produzione artistica mondiale. Parliamo di una delle più classiche, ma non di meno interessanti, cioè non di meno interessanti figure di giovinetta, di uno dei massimi ricercati, uno dei cosiddetti wanted, dead or alive, che è ovviamente Antonio Bueno. Antonio Bueno, fra l'altro, è un Antonio Bueno di epoca molto importante, perché parliamo di un quadro del 1970, un dipinto anche di una dimensione molto importante, perché parliamo, come potete vedere dalla scheda, di un 50x40, ma non solo quelle che sono le caratteristiche tecniche, le caratteristiche, come dire, descrittive dell'opera, ma qui abbiamo una delle iconografie più importanti, più ricercate e più, se vogliamo, identificative, proprio per quanto riguarda il maestro che è Antonio Bueno. Antonio Bueno è un personaggio che, fra l'altro, ha una carriera molto eclettica. Non una carriera molto eclettica, perdonatemi, mi sono espresso male, ha una evoluzione particolarmente eclettica. Ecco, lo vediamo qui in un momento, che è quello dell'immediato secondo dopoguerra, dove si avvicina particolarmente, proprio in ambiente romano, si avvicina particolarmente al mondo di Gregorio Schiltian, altro artista che, come sapete perfettamente, noi trattiamo in maniera molto importante, in maniera, oserei dire, intensiva, proponendo, peraltro, quelli che sono stati gli ultimi capolavori passati di questo maestro, sicuramente nel mercato italiano. Gregorio Schiltian riveste per Antonio Bueno il compito di faro, il compito di punto di riferimento, in un momento che, come abbiamo detto, quello dell'immediato secondo dopoguerra, è un momento di grande smarimento, un momento di grande confusione, un momento sicuramente di, come dire, realtà rivisitata. E da quel momento in poi la carriera di Bueno si caratterizza, proprio per la sua volontà, per la sua grande intraprendenza, nel confrontarsi con quelli che sono poi tutti i generi pittorici più importanti in un determinato momento in Europa. Il non impressionismo, forme di pittura anche astratta, ma soprattutto questa rappresentazione incessante, continua, che poi chiaramente è ciò che rimarrà, come dire, più impresso nei cuori e nelle menti di tutti i più grandi collezionisti europei, che è appunto questa tendenza alle rappresentazioni di questi uomini, di queste donne, con caratteristiche che nel gergo tecnico si definiscono neoteniche. Che cos'è la neotenia? La neotenia è la tendenza a, come dire, crescere, invecchiare, mettiamola così, ma mantenendo costantemente delle fisionomie molto giovanili, quasi infantili. Tanto è vero che se noi andiamo a vedere proprio la produzione più importante di Antonio Buena, la produzione peraltro più acclamata dalla critica e più ricercata dai collezionisti, è proprio quella basata su questa neotenia importante, fondamentale, quindi questa rappresentazione costantemente tendente alla esaltazione, in un certo senso quasi della gioventù, come un paradiso lontano, come l'unica vera ancora di salvezza. Poi è molto interessante vedere come riesca a rappresentare questo genere di raffigurazioni, perché nel caso specifico, quello che noi stiamo valutando in questo momento, secondo me, c'è una particolare ed evidente, come dire, analogia fra la neotenia che è tipica, che è il sostratto culturale fondamentale per quanto riguarda Antonio Buena, e questa pittura un po' evanescente. Io ho sempre letto queste opere di Antonio come una sorta di vanitas, quindi sono rappresentazioni estremamente moderne, estremamente contemporanee, dobbiamo dire in maniera seria e sincera, ma sono rappresentazioni che da un punto di vista critico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista di significati, sono molto più in relazione alla pittura antica di quanto non si possa o non si voglia credere. Ma per un motivo molto semplice questo, ed è un motivo fortemente riconducibile proprio a quello che è il momento dell'apprendistato, il momento della frequentazione, non solo personale, ma soprattutto lavorativa, di Gregorio Schiltian. Perché, come abbiamo sempre detto, Gregorio Schiltian è un personaggio fortemente legato all'antichità pittorica, fortemente innamorato della figura di Caravaggio, non solo da un punto di vista storico-letterario, ma soprattutto da un punto di vista tecnico-pittorico, e fortemente legato non solo al grande re Lombardo, ma fortemente legato anche alla pittura fiamminga, quindi a questo modo di utilizzare la materia, utilizzare gli oli in modo quasi certosino, con questa incredibile attenzione tecnica, quasi al limite della paranoia. Da Schiltian non derivano solo gli accorgimenti che dovremmo e potremmo definire tecnici, da Schiltian deriva una più ampia e generale attenzione al mondo dell'antichità artistica, soprattutto da un punto di vista dei significati, quindi da un punto di vista dell'intellettuale più che del materiale. E qui ritroviamo, proprio in questa forma di evanescenza pittorica, che è di una tensione lirica incredibile, quell'ammonimento, quel consiglio, che è onnipresente nella natura morta e nella vanitas antica. La giovinezza, rappresentata da questa splendida ragazzina con questa coda laterale, con questa faccia pulita, estremamente chiara, la giovinezza incarnata appunto da questa figura viene resa in un panorama di più generale evanescenza, quindi materiale, questa sorta di acquerello quasi slavato, che poi non è un acquerello slavato, ma insomma tecnicamente ci siamo capiti, quasi come a voler ricordare, come a voler sempre sottolineare appunto quanto la giovinezza sia effimera ed evanescente. È un quadro fatto per i grandi collezionisti, è un quadro fatto per quelle grandi personalità che amano non solo circondarsi di quelli che poi sono i nomi più autorevoli per quanto concerne il Novecento Internazionale, ma che amano scegliere di questi autori, di questi pittori, di questi grandi artisti, quelli che sono i quadri più rappresentativi. I quadri più rappresentativi, amiche ed amici, non sono necessariamente quelli più grandi, più maestosi, più scenografici, ma sono fondamentalmente i quadri che da un punto di vista intellettuale rappresentano in maniera più importante l'autore e quelli che sono i significati a cui vuole riferirsi. Quindi un quadro ancora una volta di una qualità immensa, un quadro che proviene anche questo da una bellissima collezione privata e che spero possiate recepire nella maniera più veloce possibile. Non perdetelo, amiche ed amici, non perdetelo, ma non esclusivamente ed unicamente per quelle che sono le questioni relative al denaro, anche perché sappiamo perfettamente che Antonio Bueno rimane uno degli evergreen, dei classici intramontabili, uno di quei pittori che conviene, chiaramente quando giusti, quando giustamente identificati ed identificabili, conviene sempre comprare. Ma come io vi ho sempre detto, c'è un Antonio Bueno e c'è l'Antonio Bueno. Bene, questa differenziazione, la presenza dell'articolo indeterminativo o determinativo, non è data su base soggettiva, non è data su base personale di quello che è il venditore o di quello che è il consulente che ve lo sta sottoponendo e ve lo sta suggerendo. Questa differenza tra l'articolo determinativo e indeterminativo è data da quelle che sono le caratteristiche miosologiche dell'opera, da quella che è la vera e propria fenomenologia dell'opera. E qui abbiamo senza ombra di dubbio una di quelle rappresentazioni, una di quelle realizzazioni, uno di quei risultati pittorici che identificano in maniera assolutamente profonda l'essenza intellettuale dell'artista. Quindi, signori miei, stiamo parlando di una delle opere secondo me di maggior qualità e di maggior identità culturale proprio per quanto riguarda il nostro Antonio. E voi sapete perfettamente che uno dei nostri consigli più importanti, uno dei nostri suggerimenti che più ricorrentemente tiriamo in ballo è quello di non comprare i quadri solo per il nome, ma di comprare rispetto a quel nome i quadri che da un punto di vista culturale hanno una capacità maggiore di rappresentazione. Quindi, per concludere, amiche ed amici, non perdete ciò che è imperdibile. Grazie a tutti.